Adesso vediamo C'è Itra molto deluso C'è Itra molto deluso, quello è scuro C'è lui è molto deluso o ha deluso? No, è deluso lui Ma non è che ha deluso, è che gli altri sono ancora più forti Vediamo, vediamo, vediamo Che cambio è? E' il posto BAU Non sa fa più, va E' il posto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.